Noi ci immaginiamo che siamo tutti quanti intorno al mondo, vi diamo il benvenuto a questo programma del nuovo anno tibetano, buon anno a tutti quanti, siamo molto contenti, molto felici di avere, abbiamo questo speciale programma per il Capodanno tibetano, normalmente dura 15 giorni, 15 giorni dei miracoli, però quest'anno sono 16 giorni dei miracoli, oggi abbiamo un giorno in più, abbiamo invitato 9 insegnanti, tutti quanti voi che vi unite a noi, da tutte quante le varie zone diverse del mondo, adesso piano piano le persone si uniscono, spero che Robina appaia adesso immediatamente sul mio schermo e abbiamo richiesto a Robina, anche perché oggi è l'anniversario, la commemorazione del nostro fondatore dell'FPMT, l'FPMT è la fondazione della preservazione della tradizione maya, ed è il fondatore del nostro organizzazione, di La Maiesce, lui aveva lasciato il corpo nel 1984 e oggi è il suo anniversario, quindi Robina è una delle persone che vi ha conosciuto la Maiesce, e forse molti anche di voi, che sicuramente dalle persone che hanno conosciuto la Maiesce, e la Masoparimpo ci ha richiesto di avere racconti riguardo la Maiesce, quindi ho chiesto a Robina di parlare della gentilezza del guru, di parlarci delle storie di La Maiesce, e se qualcuno di voi aveva conosciuto La Maiesce, per favore unitevi, e così quando Robina deve andare via, voi possiamo comunque sentire ancora delle storie raccontate dagli altri studenti, quindi sono un pochettino, eccomi, sono qua, sono qua, sono qua, eccomi, ecco, non riesco a vederti, scusa, non riesco a vederti, sono tante immagini qua davanti, per cui forse è difficile incontrarvi, buongiorno, buonasera, sì, qua a Santa Fe sono le nove e mezza, e qua invece in India sono le dieci, siamo molto contenti di avverti qua e di darti il benvenuto alla nostra celebrazione dell'Ose, i quindici giorni dei miracoli, sono veramente molto onorata di avverti come prima insegnante, perché tu Robina, ho già parlato un pochettino di te, e che tu hai incontrato oggi anche, onoriamo, o commemoriamo La Maiesce, la sua dipartita, e che tu hai incontrato La Maiesce negli anni 70, e quindi naturalmente hai fatto tantissime cose, e per coloro che non hanno incontrato Robina ancora, posso dire qualche cosa di te? Sì, sì, per favore, vai, dillo. La venerabile Robina ha incontrato La Maiesce negli anni 70, prima, lei era cattolica, era una cattolica molto devota, e poi mi ricordo che è poi diventata una femminista radicale, una lesbica radicale, qualsiasi cosa c'era di diventare radicale, lo è diventata, e quindi non c'erano più opzioni, e quindi ha incontrato La Maiesce, e penso che c'è veramente una storia veramente molto bella, che Robina è stata, si adessava nelle arti marziali, e poi qualcuno ti è arrivato su un piede, per cui hai dovuto smettere, no? E così è dovuto stare ferma, che veramente, se conoscete Robina è veramente una cosa molto rara vederla ferma, e quindi lei si è fermata, e quindi è stata in un centro di Dharma, che ha incontrato La Maiesce, e La Maiesce è il suo primo uomo che Robina ha ascoltato, sì, sì, è veramente vero, è proprio vero questo, è proprio vero questo. E comunque poi Robina è veramente, ha lavorato tantissimo nei 45 anni come editrice della Wilson Publication, poi ha fondato il Mandela Magazine, e poi ha cominciato il Liberation Prison Project, che poi è stato fondato anche in Australia, in Europa, in Italia, per aiutare i prigionieri, e quindi dagli anni Ottanta praticamente lei ha cominciato a insegnare, e adesso sta andando in giro per il mondo, a dare inserimento, è veramente incredibile, quando vedete il programma di viaggio di Robina, è veramente incredibile, è veramente incredibile, e adesso siamo veramente molto contenti di dare il benvenuto, grazie tantissimo, venerabile Monaca, sono molto contenta di essere qua, il mio primo ritiro è stato proprio fatto a Tuscita, il ritiro di Tara, e poi il ritiro di Vagina è stato fatto a Tuscita, quando era questo, sono diventata monaca nel febbraio del 1978, poi ho fatto il ritiro di Tara in marzo, e poi dopo in marzo ho preso l'ordinazione della maesce, e poi dopo ho fatto il mio ritiro di Vagina è stato nell'estate del 1978, molti di noi non siamo ancora nati a quel tempo, io sì ero piccolina però, e quando sei giovane, quando ho incontrato mia nonna, degli anni prima che io fossi, sembra una cosa molto strana, no? E comunque, grazie tantissimo per essere, di avermi invitato, stai facendo un grandissimo lavoro lì a Tuscita, sono veramente molto contenta, possiamo offrire, fare un'offerta dell'Ozar, grazie, grazie tantissimo, sono molto contenta, grazie, e posso farci richiederti di fare l'offerta del mandala con la tua bella voce, quindi noi pensiamo, se non conosciamo la cosmologia buddista, magari la maggior parte di noi non lo sappiamo, avete imparato che il nostro cielo è blu, perché? Perché riflette l'abislazio del Montemero, ma comunque se voi non conosciamo la cosmologia buddista, conosciamo il nostro mondo, di base, è l'offerta del mandala, è una pratica fantastica, bisogna immaginare, dovrete usare la vostra immaginazione creativa, e utilizzate tutte quante le cose che avete, e li mettete come una montagna, facendo una richiesta a buddha di insegnamenti, quindi visualizziamo il buddha che è con noi, se si conosciamo che cos'è il buddha, e quindi quello che io dirò adesso, sono il dharma, naturalmente immaginiamo, facciamo la richiesta di questi insegnamenti dal buddha, e diventa veramente di grande, auspicio visualizzare questo. Sì, per chi giug singh metog, tram ri rab ling gi, nide gien vadi, sang ghe zing du, mig te ul wagi, drocon nam dag zing la, c'è pa shog, idam guru ratna mandalakam, miryatayami. Grazie tantissimo Robina, adesso parlerò di l'ama, parlerò del guru e l'ama, eh? Sì, va bene, va bene, in un certo modo mi sento un pochettino parlare, è strano parlare del guru, perché alla fine parli di te stesso, parli delle tue esperienze del guru, e quindi sembra che tu sei la persona centrale di questo, però io non posso fare altro, è molto difficile se dire come la mazzoppa Rinpoche fa, che parla eloquentemente per ore e ore, parlando delle qualità del guru, io non posso fare così, devo per forza raccontare una cosa sulla base della mia esperienza personale, questa è l'unica cosa che posso fare. Quindi, quello che tu hai detto della mia vita, sì, sì, sono nata a Melbourne, in Australia, ero la seconda di sette figli, e proprio all'inizio, andavo sempre a messa, e quindi andavo a messa, e immediatamente sono nata a messa, è stata una rivelazione, sapevo che era la mia cosa, e volevo essere un prete, però, cioè, volevo essere il boss, naturalmente, era molto chiaro che io dovevo essere il prete, era molto chiaro, naturalmente di quanti ridevano quando annunciavo queste cose qua, però, perché non ero un ragazzo, ed ero così giovane, perché intellettualmente non potevo comprendere, vedere che il mio lavoro era proprio quello, da quel momento, da un lato, ero veramente ribelle, ero arrabbiata sempre, ed ero veramente, ero, creavo sempre dei problemi, ero veramente molto arrabbiata e volubile, e quindi avevamo otto figli in nove anni, chiaramente noi eravamo molto pareti, quindi era un ambiente molto inteso, e noi dovevamo condividere il letto e così via, quindi ero veramente, avevo una personalità molto volubile, e quindi era veramente un bully, quindi avevo sempre un sacco di voi, sentivo che non avevo spazio, però mi amavo Dio, amavo la Madonna, mi piacevano tutte queste storie, quindi naturalmente pensavo che tutti quanti pensassero così, non ne parlavo, però, andavo a messa, andavo in bicicletta alla messa tutte le mattine, e ho parlato a memoria della messa in mattina, però allo stesso momento era veramente molto, simultaneamente, ero veramente molto terribile, quando avevo 12-13 anni, quando nel tempo di Hermes Presley, sono nata nel 1944, nel 67, ero 13 anni, più o meno, ero completamente ossessionata ad essere come, avevo gli orecchini, e cercavo di sedurre il nostro doghiere, però avevo questa cosa qui, andavo in nostro tempo, amavo Dio, e poi dall'altro lato facevo anche, ero terribile, quindi ero completamente innamorata di Dio, e quindi poi cercavo di dire, all'età di 13 anni, volevo diventare, non volevo diventare come Santa Teresa, però nello stesso tempo era anche terribile, quindi avevo questa doppia personalità, quindi veramente molto incredibile, facevo le mie preghiere la sera, e poi mi mettevo in ginocchio, e poi mi mettevo, mettevo, la sparsa dei capelli davanti, sulla fronte, perché volevo soffrire per Dio, e quindi allo stesso tempo ero veramente molto terribile, ed ero veramente, quindi comunque, poi dopo quando avevo 15 anni, ho incontrato la musica dei neri americani, e quindi le persone bianche e cattoliche, ero l'unica persona che conoscevo, quindi tutto il mio mondo, quando venendo il mondo, è cambiato completamente, ho visto questo, volevo assolutamente conoscere il mondo, pensare perché conoscevo il mondo, e poi a 19 anni, ho detto, goodbye al Dio, e mi piacevano i ragazzi, non ho mai avuto il senso di corpo, poi per 10 anni, ho avuto delle intense esperienze, sono andata a Londra, ho studiato la musica classica con mia mamma, perché lei pensava che io diventasse una cantante dell'opera, e poi dopo sono diventata una ipiradicale, sono diventata una comunista radicale, poi sono diventata una femminista radicale, non stavo articolando in questo modo, però stavo cercando un modo per capire il mondo, comprende la sofferenza, cos'è che ci fa soffrire, poi dopo mi sono trovata, ho trovato un esperimento, ho avuto un incidente, stavo facendo il Kung Fu, Karate, e quindi ero veramente molto fanato, studiavo 6 giorni a me, se non c'era niente spazio per niente altro, quindi c'era questo, l'insegnante è questo, lui mi ha, questo qua mi ha portato, ero completamente devastato, quando ho smesso di fare il Kung Fu, ho visto un posto, la Maesha, e lì in quel momento, ero stato convinto, che ho sentito il suo nome prima, naturalmente non avevo messo, ecco come funziona il karma, ecco come il karma funziona, e quindi scherzavo, questo è come lavorano in Uvo di Sarto, naturalmente, fanno delle cose abbastanza ingannevoli per riprendere, mi hanno dovuto interrompere, e quindi ho visto questo posto, naturalmente certo vado a questo corso, ed ero il secondo o il terzo corso, il secondo corso, il terzo corso in Australia, nello stile di Copan, un intenso ritiro di Lambrem, con la Maesha, non potevo fare karate, quindi se si vado, diceva così incontro il lama, e da un lato ero completamente devastata, un'esperienza scioccante, perché ero una radicale femminista, e quando ero femminista, quando ero estremista, e poi ho avuto sesso, sesso, droghe, rock and roll, non rock and roll, ma jazz, e poi sono diventata ancora una femminista radicale, una femminista, una lesbica radicale, e veramente al 100% ero impegnata, nella filosofia che io avevo sposato, in quel particolare momento, che era veramente una cosa scioccante, ormai avevo perso tutte quante le opzioni, stare con le persone normali, con le persone comuniste, e quindi non c'era niente, ed era un shock per me, incontrare la Maesha, veramente una femminista molto seria, quindi è stata un'esperienza veramente, e molto forte, e quindi all'età di 31 anni, sapevo questo era quello che io cercavo, questo è veramente una campana, finalmente ho trovato quello che cercavo, e poi dopo era tutto patriarcale, le monache stavano indietro, gli uomini, quindi è veramente scioccante vedere questo, il buddismo timetano patriarcale, però veramente la Maesha era straordinaria, amavo la Maesha, la Maesha è veramente in colline, sono rimasto lì per un mese intero, un mese di lambri, un mese con la Maesha, il mio primo ritiro praticamente, è stato questo fantastico libro, che è stato il primo ritiro, dove c'è questa pratica di New Yoga, che la Sant'Italia mi ha scritto, quando avevo 19, ed ero così tanto femminista, e ho fatto il ritiro con la Maesha, visualizzando Ceresi come guru, però lo dovevo visualizzare, che era una donna, che era una femmina, non volevo assolutamente che fosse un uomo, Ceresi per me era una donna, era un misto di tara e Ceresi, cosa potevo fare? Non potevo fare a meno di amare la Maesha, le persone parlano come i nostri lama, ero veramente commossa, dal fatto che non era riconosciuto formalmente, era riconosciuto informalmente, come la reincarnazione di una breve precedente badessa in un monastero femminile in Tibet, essendo essere la reincarnazione di qualche donna, non era riconosciuto formalmente, e quindi era molto chiaro, quando era piccolo, che apparentemente era veramente molto speciale, e quando avete incontrato, sentite parlare della maesha, la maesha era veramente uno speciale da piccolo, aveva realizzato la vacuità nel cortile da dibattito, e quindi mi concludi con il senso, quando lui era veramente molto pratico, era molto etico, era veramente un ottimo, veramente brillante, molto acuto, ed era veramente un bravissimo dibattito, e quindi quando noi abbiamo conosciuto la maesha, il fatto che lui fosse la rincreazione di una badessa, veramente aveva questa energia, questa energia femminile, sì, lui era un uomo, perché era veramente leggero, ed era veramente pratico, però aveva questa energia femminile molto potente, e aveva questo incredibile, un grande dibattito, veramente anche molto irato, per me era veramente, non l'ho incontrato tante volte, non l'ho incontrato, io dico, però veramente, lui mi sembrava grandissimo, sembrava grandissimo, enorme, e molto potente, però quando l'ho incontrato, a questo corso, due mesi con lui, nel ritiro di Lambrin, e poi il corso, mi sono innamorato completamente, perché era veramente una grande lotta dentro di me, perché dovevo completamente rivedere tutte quante le visioni, perché le sue visioni erano completamente, sono entrate dentro le mie certezze, però sapevo, sentivo, che questo era da dove io appartenevo, e veramente, ho dovuto fare un lavoro interiore molto intenso, quindi ho dovuto distruggere tutte quante le mie certezze riguardo la realtà, e veramente, sapevo che era un punto veramente molto potente, che questo concetto del karma, che veramente mi ha, parla di ricarnazione, parla che la coscienza viene da prima, questo era veramente molto chiaro, era veramente come una rivelazione, veramente, anche se ero innamorato di Dio, non ho mai pensato a Dio come il mio creatore, per cui, avevo questa fortissima connessione con Buddha, avevo questo amore per Dio, come la devozione al guru, quindi non avevo il concetto della karma, l'incarnazione, e lì, quello che mi ha veramente, lì ho cominciato a comprendere, sì, sono una femmina, sì, gli uomini sono, gli uomini sono, nell'universo, nel mondo, sono stati i padroni, e hanno causato un sacco di sofferenza, hanno causato la guerra, è sempre scarso le persone, le persone hanno paura, hanno paura di essere attaccati, ma non siete, di solito le donne vanno in giro la notte, hanno paura di essere attaccate agli uomini, e non dalle donne, e quindi non sto cercando di essere personale, quello che mi ha apprezzato, io sono stata veramente, sono stata femmina per il miglior, il miglior numero delle volte, sono stata anche uomini, molte volte, in queste volte, particolarmente in America, nel mondo, la default della persona, è un uomo bianco, è esattamente come, perché soltanto adesso, che in America, adesso hanno scoperto, questo gruppo di persone, che si chiamano, gli uomini bianchi, che sono dei terroristi, e loro non avevano l'etichetta, prima, prima, persone vecchie, nere, abbiamo delle donne, che sono dei creatori di problemi, e così, ad un certo punto, hanno deciso, che ci sono le persone, che vengono considerate, normali, sono gli uomini bianchi, loro sono i creatori di problemi, quindi l'hanno scoperto, è veramente una cosa incredibile, no? E quindi, adesso stiamo, quando ho sentito, gli insegnamenti, questo veramente, mi ha sconvolto, la mia testa, sono una femmina, e sono, e quindi, io abbiamo, soffrato tantissimo, quando sono, sono stato innumerevoli volte, cane, gatto, uomo, donna, e questo, quindi, capendo questo, ho compreso questo, quindi, ho intentevo prendere le responsabilità, di assumere le responsabilità, noi stessi siamo, siamo responsabili, di quello che noi sperimentiamo, tutto quanto è creato da noi stessi, noi ci portiamo le cose dietro, la visione fisioterapica, nel passato, nel mondo, se guardiamo nella scienza, è colpa della madre, la nonna, la bisnonna, e così via, poi si può arrivare indietro, fino alle scimmie, questo è quello che si pensa nella scienza, ma invece no, questa è la cosa che immediatamente, ho sentito questi insegnamenti, incredibili, di la mazzoparimpoce, dell'Ambri, che gli ha parlato, non capivo assolutamente niente, però, questo punto, mi ha veramente scioccato, questo è veramente qualcosa, che mi ha aperto la mente, la mazzoparimpoce, parlava per un mese, di insegnamenti, l'Ambri, non ho capito la maggior parte delle cose che diceva, però capivo le parole, ma non i concetti, e poi questa persona arrivava la sera, ed ero lì, qualsiasi cosa che diceva la maiesce, aveva completamente senso per me, e quindi è veramente una cosa incredibile, posso dire questa, è una cosa incredibile, perché ho lavorato sui lavori, gli insegnamenti di Lama, e quando leggo le parole di Lama, quando lui comincia, all'inizio degli anni settanta, era così incredibile, perché era quasi come se lui fosse nato come un Ippi moderno, il Lama Iesce, aveva la capacità di Lama di comprendere la mente degli occidentali, era veramente incredibilmente I, e veramente aveva capito completamente, parlava esattamente come noi, parlava come noi moderni, proprio al tempo degli Ippi, e quando voi sentite gli insegnamenti classici di Lama tibetani, che letteralmente sono medievali, e sono proprio come l'Amazon Kappa, niente molto cambiato, mentre invece è meraviglioso, perché chiaramente possiamo il lineaggio, e lì Lama Iesce in qualche modo sapeva, cosa era più straordinario, è che lui aveva una grammatica terribile, quando leggete le sue trascrizioni, lui usava queste incredibili parole, in modo che aveva, era veramente straordinario, come lui si faceva comprendere, parlava con un uomo che adesso è morto, Gene Smith, un studioso americano, che aveva imparato il tibetano negli anni 60, e poi dopo viveva in India, e vissuto per 40 anni lì, e lui era stato doveva fare la ricerca, mantenere e raccogliere tutti quanti i testi tibetani, non so per quale motivo, però con lui era molto interessante, il racconto questa storia dopo, questo Gene Tom era un amico di Zina, che era stata la prima studentessa occidentale, di Lama Iesce e Lama Zopa, e quindi lui ha visto un uomo, mai incontrato così Lama ad Argini, a metà degli anni 60, e anche lì non riusciva a capire, quello inglese di Lama Iesce era insano, perché aveva questa incredibile capacità di comunicare, in un modo moderno, non so se leggete tutti gli insegnamenti tradizionali, tibetani, Lama era veramente incredibile in questo, perché i suoi insegnamenti, anche quando ho detto, l'ultimo libro che è uscito l'anno scorso, Mahamud l'ha insegnato nel 1982, è straordinario come insegna, come per esempio nella letteratura buddista, una parola si riferisce a tutti quanti gli stati nei bracci della mente, alla rabbia, anche all'afflizione, su santità lo usa tutti quanti gli tibetani, la tradizione del tibetano, che viene da sascrito, Lama non ha mai usato, non ha mai usato automaticamente, sapeva che era una parola ridicola, non usiamo nella nostra tradizione, ho un'afflizione oggi, è sempre uno scherzo, lui sapeva benissimo, infatti ho identificato, questa è una cosa che ho detto, ci sono 21 sinanime, la maggior parte ne aveva fatti, Lama Yesh, per comunicare in inglese, il significato delle parole tibetano, perché era veramente, veramente incredibile, veramente insegnamenti, è veramente la sua voce, cerco le trascrizioni, il suo sforzo, l'incredibile sforzo che lui faceva, per comunicare, è veramente, ti rende veramente incredibile, questa è la qualità principale di Lama, che non posso smettere di sottolineare, più di così, e naturalmente, non sarai stata pronta, ok, Lama Yesh, dopo questi due mesi, sapevo che era il mio insegnante, non sapevo ancora le parole, non era molto chiaro, però ho preso il rifugio con lui, e poi sapevo, che se la Masa Parimba fosse stata lì, non so se il karma sarebbe potuto maturare, perché il mio karma non era ancora pronto per la Masa Parimba, perché è soltanto dopo dieci anni che ho conosciuto, che ho riconosciuto che la Masa Parimba era il mio Maesce, ci sono voluti dieci anni, ho avuto un sogno, prima ho preso il rifugio con la Maesce, pensavo che questo è il mio sentiero, però era ancora una femminista radicale, quindi avevo ancora tutti quei amici, amiche lesbiche e così via, e parlavo con la Maesce, dopo sei mesi, a un certo punto, ho detto che lui è il mio lama, dopo sei mesi che prendevo il rifugio, diceva che è il mio lama, nel 1977 l'ho detto con una delle mie sorelle, e l'idea di avere un guru era veramente rivoltante, era una cosa molto strana, e così ho detto con una mia sorella, ho detto che ho un guru, ma non dirò a nessuno, e poi sono tornata a Copan, e ci hanno resi l'anno successivo, e poi dopo, dopo mi sono collegata con loro come mia maestra, poi dopo, dopo parlo un pochettino, l'avevo riconosciuto come la mia maestra, senza la Maesce, non ero pronta per la mazopa, non ero pronta, ci sono voluti dieci anni, lo sapevo, sapevo che era uno dei miei guru della mazopa, infatti uno dei miei ritiri di Vagia d'Assad, dopo che sono diventata monaca, a Tuscita, durante la stagione delle piogge, naturalmente avevamo questo, avevo avuto un sogno vivido, durante il ritiro avevo un sogno vivido, un sogno vivido che avevo, eravamo a Monastero di Nalanda, nelle ruine di Nalanda, non c'ero mai stata, però quando sono andata in Pellegraggio, per andare a fare prigia, c'erano un sacco di studenti lì, e la mazopa era lì, e mi ha chiamato, e mi ha messo questo testo, questo testo, su una mia spalla, e lui mi ha messo i vestiti gialli, e lui gli ha detto, seguimi, e quando l'ho detto a un lama, dice, ah, quella è il lama che ti porterà alle illuminazioni, ero completamente giocato, perché sapevo che la maezza è il mio guru, ero veramente, cioè ci sono voluti dieci anni, da quello, forse, nove anni, ci sono voluti nove anni, per capire questa cosa, sapevo che era il mio guru, come la maezza, però ci sono voluti nove anni, prima di riconoscere come mio guru, e sono tutte quante le case, devono venire insieme, prima potete mettere una pianta, una pianta, dare l'acqua alla pianta, per tutti i giorni, però se non è pronta per essere, per sbocciare, non può sbocciare, quindi ci è voluto tantissimo, per quei dieci anni, lui mi ha lasciato completamente da sola, non mi poteva pensare, mi diceva, mi scherzava, mi diceva, hello, così, poi nel 1986, dopo che la maezza, ha lasciato il corpo, è stato veramente una cosa devastante, la maezza, la maezza, non era la maezza, comunque, poi alla fine, la maezza, invece, è presa a cuore di me, la maezza, era veramente, ero veramente, aveva un grande cuore, volevo il Dharma, e quindi volevo i suoi insegnamenti, per sei mesi dopo, e quando ero a Melbourne, abbiamo avuto, mio padre era un giornalista, avevamo una compagnia di, una casa di pubblicazione, quindi tutta la mia vita, ero sempre nella parte della propaganda, e quindi il mio padre era giornalista, abbiamo lavorato nella casa editrice, e poi quando ero in una politica, allora lavoravo sulla parte della propaganda, ero una femminista, sempre nella parte della propaganda, appena sono entrati ai Cerusi, insieme al giorno 6, dovevamo fare il karma, io sono andato subito, a trascrivere gli insegnamenti, appena sono arrivata su a Copani, immediatamente sono andata, nella casa editrice, subito, questo è il mio lavoro, comunque, il primo anno sono tornato a Melbourne, lì ho deciso, che volevo fare la nuova versione, la nuova versione, volevo riscrivere tutto quanto, ho fatto l'edita, ho compilizzato, quindi l'ho portato, 500 copie nell'anno successivo, ero veramente molto orgogliosa del mio lavoro, voglio incontrare la maiesce, e Bonnie, lei è ancora uscita, vero? Lei era la prima direttrice del Tara Institute, e Bonnie era molto amica della mia mamma, Bonnie e mia mamma erano molto amici, che questa è una news, conoscevo buoni molto, lei mi ha aiutato un pochettino, ma non era la mia idea di fare, che io ho fatto il lavoro, e volevo fare le cose, ero molto orgogliosa di fare questo, l'ho presentato questo a Lama, questo libro, e lui mi ha detto, e prima ancora avevo già annunciato, ecco, volevo dirgli, che lui era il mio guru, non sapevo che bisognava chiedere, ero molto, non avevo neanche usato la parola, ero troppo orgogliosa, però avevo indicato che lui era il mio guru, e lui mi ha detto, sì, 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 lo so, e lui, questa è questa, lui qua c'è la relazione con il guru, ok, e ci sono volete dieci anni per riconoscere Lama Zoparipo, cioè la maiesce, lo sapevo, che l'avevo annunciato che era lui, e a quel punto, mi sono connessa con lui di base, l'avevo indicato come mio guru, quindi avevo annunciato che lui era il mio insegnante, e quello che avevo dato, gli avevo dato il permesso nella mia mente, gli davo il permesso di indicare la mia mente, gli ho dato il permesso, era veramente una cosa, quando voi scegliete il vostro guru, voi dovete scegliere molto attenti anche il guru, perché da Papon Karim, ho scelto il mio guru, veramente molto importante di questo, sono una piccola ragazza, ho il guru, abbiamo veramente un'idea sbagliata, di quello che è la relazione del guru, deve essere un posto, veramente, voi decidete chi è il vostro guru, e non vi toccheranno affinché non siete pronti, e quindi lui mi ha cominciato a mostrare la mia mente, quindi ho presentato questo libro, e lui mi ha detto, oh grazie che mi ha aiutato la mia monaca, no lei ha aiutato me, non io ho aiutato lei, questo è stato il mio inizio di mostrare la mia mente, questo è il loro, è da lì, e non ha smesso, ed ero veramente terrificata, perché ecco, perché io non voglio meditare, pensavo che meditare fosse, stare seduta a meditare, con gli occhi chiusi, no, io volevo studiare, volevo sentire, volevo fare delle cose, non volevo stare stessa, così sono andato a Copan quell'anno, ho chiesto all'Ama potrei diventare monaca, guardavo il mio anese, quando è che potrò diventare monaca, lui mi ha mandato dalla Mazoppa a prendere l'ordinazione, il 9 di febbraio, è il mio 42esimo, 43esimo, il compleanno, diciamo, da quando sono a una, ho chiesto all'Ama di diventare monaca, e ho detto che naturalmente, quando ho riconosciuto, ho riconosciuto l'anno, ho realizzato, che quello era quello che io volevo fare, naturalmente, quando volevo, ho mollato il sesso, ho mollato il drago, ho lasciato, ho mollato le sigarette, ho mollato l'alcol, e non volevo assolutamente avere una famiglia, avere dei figli, ma quale storia strana che cerco, quindi voglio diventare, quindi ho chiesto all'Ama posso diventare monaca, facevo tutte quante le pubblicavano le berghiere, e lui mi ha mandato alla Mazoppa a Losa, alle 3 della mattina, c'era Elisabetta, mi ha dato gli vestiti, e mi sono sentita un po' offesa, perché era molto gentile, e le forme non funzionavano per tagliare i capelli, e poi dopo, Lama Mazoppa ha scritto il mio nome, ha scritto il nome, tutto in consa, e quindi ho visto Lama in cucina, perché tu hai scelto il mio nome, e lui ha detto, no no, Rimpocci è qualificato per fare questo, perché la maiesce era il mio auguro, comunque, la maiesce era veramente molto intensa, e quindi avevo una gran paura di lui, e lui mi sembrava altissimo, mi sembrava grandissimo, e mi ricordo, però mi piaceva tantissimo dare i suoi insegnamenti, ogni volta che lui insegnava, ero lì, ogni parola aveva senso, e sentivi completamente, oh, meno male che ha senso quello che dice, e dava l'idea che era possibile, questo è il potere di Lama eiesce, e questo mi sostiene sempre, quando faccio i suoi libri, questo è perché è così potente, quando sentite gli insegnamenti, veramente, non potete vedere la luce della fiema, invece Lama eiesce ti mostrava questo, ti mostrava che questo è possibile, noi abbiamo bisogno di questo, perché non abbiamo questa visione a lungo termine, lui ha mostrato che questo è possibile, questa è la cosa più sublime, la cosa ti rende più ottimista, ti rende entusiasta, e questa è un'incredibile abilità, fino all'ultimo giorno della sua morte, e quindi la cosa come con il Lama, quando voi scegliete il Lama, dovete scegliere molto attentamente, mi piace questa frase, la mia frase, è quello che lui ha detto, dovete scegliere il vostro Guru molto attentamente, perché alla fine diventerete come lui, quindi questo è il punto, è questo, che quando abbiamo queste concezioni errate riguardo al Guru, queste idee, queste idee spassature, che si hanno, è molto chiaro, la relazione con, per esempio, come nella mia relazione con Lama, io volevo il Dama, io volevo lavorare sulla mia mente, non volevo stare seduta, non volevo studiare, volevo fare qualcosa, volevo fare qualcosa, però volevo lavorare nella mia mente, questo aveva completamente senso, volevo comprendere la mia mente, e quindi Lama capiva questo, e quindi è quello che ha fatto, immediatamente, mi ha mostrato immediatamente la mia mente, era completamente irato, sono completamente grata, tutto quello che lui, mi ha mostrato la mia mente, quel mente, non pensavo mai, non avevo mai riconosciuto l'orgoglio, proprio il primo giorno, la prima cosa che l'ho detto, era esattamente quella mia mente, ero scioccato, come lei ha aiutato me, cosa vuol dire, grazie per aiutare, aiutare le mie amiche, monaca, io sempre aiutavo, però avevo quel tipo di aiutante, che erano sempre dietro, le altre persone che portano avanti, io sono una di quelle che portano avanti le cose, devo guidare la vita, devo fare quello che voglio io, e ho sempre voluto essere così, perché la maiescia, mi ha dovuto mostrare, questa è quella cosa che ho imparato, quando sono andata a Copan, e lì ho sentito che tutta la mia vita è stata nelle case editrice, e quindi sempre, ho sempre fatto nella sparta della propaganda, il mio lavoro è sempre fare questo, sempre, e ho sempre fatto sempre, questo stampare i libri, grafica, ho lavorato nelle edizioni, sempre, sempre, sempre questo era il mio lavoro, il dottor Nick ha cominciato con tutte quante le sue cose, e poi dopo aveva pubblicato, diceva sì, lì stavo lì, tutti i giorni a stampare, quindi ero in paradiso fare tutte queste cose, e lavoravo per la visa per un anno, poi dopo, poi è il mio lavoro, è chiaro che ci vado, è chiaro che ci vado, e quindi sono andata, e quando sono diventata monaca, facevo il lavoro per la visa, era la mia vita, ero completamente in beatitudine, ho fatto il mio ritiro di Vagira Satwa, e poi ho avuto una lettera da Nick, e noi siamo dovuti tutti quanti uscire, tutti quanti da Copan, e quindi l'ama aveva questo nuovo, centro in Inghilterra, e siamo andati, siamo andati tutti il suo sangue, 30 monaci, sono fatto tutti quanti alle sue case, e tre, siamo mostrati tutti quanti a questo centro, a Manjushin, e ho avuto questa lettera da Nick, avevo già lavorato con Nick Adeli, e veramente, e pensavo che doverlo farlo, e pensavo veramente a un anno, ho avuto questa lettera da Nick, e lui mi ha detto, ma mi ha detto di stare, dovevo andare in questo centro in Inghilterra, dove mi andava la visa, e voglio che ero bene, fosse la segretaria, momenti svenivo, non posso scrivere, non mi pensavo, ero completamente scioccata, e ho detto come stessa, ho detto come stessa, oh, l'ama non comprende, l'ama non comprende, l'ama non capisce, perché vuole tutte le qualità, non voglio essere arrogante, è la mia vita, ero preparata per fare questo, capite quello che intendo, ero completamente scioccata, era molto, sapevo benissimo cosa faceva l'amaesce, e quindi gli ho detto, era veramente come un inferno per me, sono andata al centro, ho preso questo nome, adesso non voglio essere, chi è Tutempema, chi è Tutempema, chi è Tutempema, chi sei, chi è Tutempema, Tutempema, non lo so, non lo so chi sia, Tutempema, ciao Rubina, sto cercando di, non voglio scioccare i tibetani, no, 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 non sono tibetani, non sono tibetani, dove sei? a Singapore, oh bene, bene, ok, allora tu sei abituata, le persone matte occidentali, ok, ok, scusate, adesso cerco di mostrare, il potere del guru, è la mia decisione, di scegliere questa persona, come il mio guru, e poi quindi, per il mio impegno, perché lui sapeva la mia mente, conosceva la mia mente, e mi ha spinto al limite, e quindi poi, in questa lettera da Ney, che Robina sarà la segretaria, c'era questo nome, questo nome tibetano, di un uomo americano, che ha detto che doveva essere direttore, e quindi io volevo, completamente distruggere questo uomo, e dare le sue ossa, al cane, e dico, pensavo che l'ama fosse completamente fuori di testa, perché sapevo benissimo, che beva esattamente qua, e per me era veramente una cosa difficilissima, non sto scherzando, non sto scherzando, specialmente, era completamente chiaro, vedevo il mio orgoglio, la mia rabbia, e tutte quante le afflizioni, anche la gelosia, e che erano completamente senza conto, questa era l'abilità di la maese, io avrei guidato un'eccellente compagnia di pubblicazioni, questo non era quello che dovevo fare, quindi, dagli anni, ho visto le persone che poteva indicare come direttore, e questo, pazientemente, non erano assolutamente le qualifiche, voleva diventare monaco, e voleva spendere il suo tempo per fare meditatore, pensavo, l'ama e completare fuori, ma poi, anni dopo, ho sentito, dalla maesa, che ha detto a un direttore, dove pensate che tu hai avuto questo lavoro, perché sei bravo, questo no, tu hai avuto questo lavoro, perché tu hai creato le cause, per fare questo, e quindi ho sentito fin dall'inizio, che era veramente, veramente incredibile, in altre parole, l'ama vogliono che voi lavoriate sulla vostra mente, voleva la compagnia, in pubblicazione che ci fosse, però la pratica più importante è quella di lavorare, quindi la gentilessia, e questa è proprio di essere completamente fiduciosa, di avere fiducia in lui, e questo è una forma di attaccamento, oh, oh, questo lama, oh, è molto carino, è molto carino, quindi voglio avere questo con il mio lama, e poi dopo, poi dopo, siccome magari non ti piace quello che fa, allora lo porti in tribunale, e lo denunci, no, questo è quello che succede adesso, no, 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 quindi quando vedete le qualità, dopo dovete dedicarvi a quello, perché, se volete praticare il dame, è questo, questo era quello che io facevo, anche quando io ho fatto il confuso, anni e anni prima, non molti anni, quando ero femminista, ho vissuto a New York, e facevo il karate, e quindi il dojo che avevo scelto, era uno dojo femmine, di donne, l'insegnante era terribile, ho studiato per un anno, con lei, e non sapevo che lei era una cattiva insegnante, perché volevo seguire così, poi dopo sono a me, a continuare a studiare il karate, ho scelto la stessa, ho detto, ero una cintura verde, e lui mi ha visto fare il karate, mi dispiace, devi tornare alla cintura bianca, ero veramente, non avevo una brava, avevo sbagliato a scegliere l'insegnante, per cui è stato veramente molto importante, anni dopo quando andavo all'Auizo, andavo a fare il Kung Fu, la stessa cosa, quindi era un'insegnante, quindi sono andata, e quindi questo Kung Fu, quindi anche lui poteva vedere che voleva questo Kung Fu, quindi andavo sei giorni, lui mi ha spinto fino al limite, mi urlava dietro, voleva imparare, insomma, e naturalmente era avvio, che io lo volevo così, e quindi l'ama voleva che io volevo il Dharma, e quindi lui mi ha spinto fino al limite, mi ha spinto, era veramente intensa, però è esattamente il coso del genere, non avrei imparato in un altro modo, e quindi ho dovuto imparare a lavorare sulla mia mente, ero completamente fuori dal mio cervello, e veramente non sopportavo questo, non sto cercando di rendere nervosa, e semplicemente era così chiaro, sapevo che l'ama doveva assolutamente lavorare su di me, e quindi sono completamente egorsese, e come avrei potuto vedere l'attaccamento, le evoluzioni mentali, e siete completamente persi nella vita, così, oh sì, l'ama sì, no, 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 l'ama esce, il mondo che dice riguardo al guru, Buddha è morto, in quanto una breve verità, possono reali per voi, quando li sentite dalla bocca, di una persona, che voi avete scelto, che sia il Buddha per voi, il guru per voi, non potete fare senso, non è possibile, è impossibile, è impossibile, è veramente un territorio incredibile, chi vuole lavorare solamente, chi vuole vedere le proprie afflizioni mentali, nessuno, non le possiamo vedere, se noi abbiamo, l'unica persona che vi può mostrare le vostre afflizioni, è il curo, e questo è quello che l'ama esce ha fatto, durante il mio primo incontro, mi ha completamente sconvolto, e ho perseverato, e quindi anche se sono un creatore di problemi, io creo dei problemi, sono veramente, sono stata licenziata dai miei lavori, non sono una persona creativa, sono contenta di essere una persona creativa, però non ho mai mollato il lavoro, sono a mio vita, cerco di praticare le dame, cerco di avere rivoluzione a cuore, non critico i miei fratelli e sorelle di Vagina, questa è una cosa dei lavori più peggiori, che si può fare, la più grande causa di disarmonia, è criticare i vostri fratelli e sorelle di Vagina, non faccio questo, comunque bla bla bla, parlo sempre di me adesso, però è il potere dei lama, e le buone qualità dei lama, di lama esce, non c'è dubbio su questo, c'è qualcuno che parla sempre di me stessa, riguardo lama esce, il potere di lama esce, e quanto siamo fortunati, quindi il primo insegnamento che ho avuto è stato che la lama esce, sono cadute nel suo grembo, sono veramente molto grossa, però per favore, fatemi un po' di domande, penso che sia meglio, abbiamo una domanda, da Nighita, grazie Rubina, Nighita sei lì? Vuoi parlare direttamente? Non riesco a vedere, altrimenti reggo io la domanda, sì, sì, leggi, leggi, avanti, eccomi, sono qua, parla com'è, grazie tantissimo, di queste le parole, sono molto contenta di questo, tu stavi parlando, di quanto dell'equenza di, la Masoparim, poi c'è ne parla di lama esce, ho sentito, sono stata molto ispirata di questo, e trovo difficile, la comunità del Dharma, vorrei sapere, che è successo, in quale modo, noi possiamo, avere questo, è il potere della parola, questo è un regalo, credibile, noi non ci prestiamo molta attenzione, alla parola, nel nostro mondo, noi pensiamo, posso dire quello che mi pare, non pensiamo, siccome non abbiamo la visione, delle conseguenze, non abbiamo la visione, delle cause, di effetto, quindi non pensiamo, che la parola abbia molto importante, mentre invece è molto potente, è molto molto importante, la potere della parola, quello che aveva la Maeshe, noi lo sappiamo, che nella vita ordinaria, dobbiamo comunicare con le persone, dobbiamo andare a chiedere, se le persone non ascoltano le tue parole, non ti rispettano le tue parole, le persone non credono alle tue parole, allora non puoi fare assolutamente, mentre non possiamo sovrere, su questo, questa è una cosa cruciale, per gli esseri umani, quindi il regalo maggiore, del Buddha, possiamo passare, finché loro non aprono la bocca, questo è il potere di la Maeshe, di qualsiasi gur, questo è la loro parola, ha una parola da Lama, non ho avuto molte conversazioni con Lama, però, però io sapevo, che lui conosceva la mia mente, sapevo benissimo, che cosa era la cosa migliore per me, e mi dava delle parole, così che passavano, e che aveva il potere della parola, e come fate ottenere questo, è quello di tenere silenzio, per esempio, prima di tutto, gli insegnamenti del Buddha, cosa c'è a 10, delle 10, 4 delle parola, gli animali non fanno molto, fanno un grande rumore, però, noi dobbiamo, al primo livello di pratica, quello di non dire delle parole che non sono vere, non dire delle parole che sono completamente, senza senso, non usare un linguaggio abusivo, in tutte, una delle cose, i crimini principali, delle nostre gente, che causi tanta sofferenza, è quella di parlare male, dei fratelli e sorelle di Vagia, e comunque, nella nostra famiglia, nella nostra organizzazione, nella nostra attività freaga, è parlare dietro, alle spalle delle altre persone, quando noi magari, abusiamo gli altri, con la prima, quando parliamo male degli altri, alle loro spalle, questa è la cosa che ci piace più di tutte, quindi, voglio rispondere alla tua domanda, comunque, non mi dimentico, quando in Inghilterra, in Inghilterra, il Manjush Institute, ci siamo separati, si è separato dall'FPMT, e dalla Maiescia, era lì, no, che c'è il caso, anche se ho ricevuto anche delle iniziazioni, per loro, ha preso il centro, a quel tempo, è stato veramente, è stata una delle esperienze peggiori della mia vita, nell'inizio degli anni, anni 80, è stata una zona di guerra, non mi dimenticherò mai, questa è la Mazzopaglia, questa volta, e questo schisma che c'è, in questo centro di La Maiescia, il più grande schisma, tra questi, molti studenti hanno seguito l'altro lama, e la Mazzopaglia ha detto una cosa, veramente detto, questo è il risultato, di rompere il terzo botto radice, parlare dei difetti, dei tuoi fratelli e sorelli di Vagira, e quindi, guardate le cose che succedono, nella tradizione gelupa, per esempio, sei parte del centro, sei buddista? Sei parte del centro, puoi togliere via il mutuo? Sì, ho preso rifugio, vado al centro, scientifico, qui a New York, ok, fantastico, molto bene, parlerò più direttamente, poi ti dico le altre cose, quelle persone che sono state, nel centro per molti anni, però comunque, ascoltando te sempre molto, molto tranquille, non sembra che vai in giro a urlare per le persone, è vero o no? È corretto o no? Ma tu contrai le tue parole, giusto? È corretto? È forse un po' troppo, e quindi, sembra che tu non puoi esprimere te stesso in un modo corretto, giusto? Allora, cara, la cosa migliore, c'è una pratica molto potente da fare, che è quella, è veramente una meditazione molto, che si chiama, benedire la parola, è molto di grande beneficio, perché voi, quello che fate, come si ricettano le parole, stasche che sono molto pure, quelle erano state fatte, come un manto, e quando riesci, ti puoi, si purifichi la tua parola, e questo, in una tradizione virginayana, parla della nostra mente sottile, le nostre energie sottile, come nel sistema yoga, nel sistema yoga, che quando le parole sono dei manto, il suono è l'energia del vento, indicendo il manto, per esempio, questo benedice la parola, e stando in silenzio, che è una cosa buona, tu stai in silenzio, questo è molto buono, questo è veramente molto, proteggete la parola, così lo dovete, stare attento di non fare parole negative, e poi dici dei manto, e poi piano piano la tua parola, avrà molto più potere, ma questa è una cosa veramente, molto buona per le città di madre, qualsiasi manto, benedite la vostra parola, con il mantra, ok? Voglio dire, questa è la base, questo, questo punto, per le persone che sono state nei centri per anni, allora, questo momento, quando la mazzoppa disse, questo non ho mai dimenticato, non me lo dimenticherò, ma questo è il risultato, questo scisma, è proprio perché, il centro speciale di Namaies, aveva delle incredibili attività, c'era il sanga, c'era le compagnie di complicazione, e poi c'era il programma di Geshe, c'era veramente un centro incredibile, c'è stato questo incredibile scisma, ed è come essere in un territorio di guerra, questo era il risultato, di parlare male dei fratelli, e questo vuol dire anche le vite passate, quindi guardate nella ghilupa, per esempio nei monasteri nel Sol, ci sono divisi in due, a causa di questa storia del protettore, quello che è successo a Maggiuste, guardate, per esempio nelle caglie, o ci sono due caramappa, e questa è a causa, del creare, disarmonia con la parola, questa è la maggior parte di noi, magari non andiamo fuori, ad uccidere le persone, rubarsi, però ci pare, c'è parlare alle spalle delle altre persone, quindi ci pensiamo che, pensiamo dire tutto quello che ci pare, non sembra che noi, noi diciamo un sacco di cose, e quindi parliamo sempre male di di essere, questa è la causa di tantissime sofferenze, per noi stessi e per gli altri, quindi bisogna controllarla, proprio particolarmente nei centri di Dama, è veramente molto importante, e vedo questo anche nella mia famiglia, questo è veramente qualcosa di molto importante, quando ero qui, adesso sono qua a Santa Fe, che mi ha offerto la casa, e mi ha sentito parlare con mia sorella, e lei è rimasta completa come noi, eravamo gentili fra di noi, e come noi, eravamo gentili uno con l'altro, noi eravamo in sette, quando eravamo a casa, litigavamo tutti quanti, sempre, sempre, avevamo un sacco di litigi, parlavamo male di uno o dell'altro, però negli ultimi vent'anni, ho detto, noi siamo veramente molto vicini, come anni, siamo tutti quanti fra i 70 e i 80, uno dei miei fratelli è morto, quindi negli ultimi vent'anni, abbiamo avuto un accordo, che non parliamo mai, cose negative, fra di noi, e non parliamo mai, di parole di cui non siamo d'accordo, anche se attivamente cerchiamo di stare, essere contenti di stare insieme, di essere gentili, non pretendere, è veramente come noi abbiamo cercato di coltivare questo, vi dico le cose a differenza, non c'è soltanto, non portate questo speso, sono di gelosie, così quando litigate, bisogna cercare di perdonarsi, così via, è veramente una grande sofferenza, quindi è qualcosa che la mazappa, la mazappa non apre mai la bocca, dicendo una cosa negativa, parla soltanto di lodi, è veramente una pratica incredibile, non posso esprimere ancora di più, di come controllare la mente, e voi potete trasformare la vostra visione, e la mente diventa più pacifica, posso vedere che c'è anche molto, molto cambiamento nella famiglia, c'è veramente un grande cambiamento, noi eravamo completamente gelosi uno degli altri, veramente, eravamo veramente molto gelosi uno dell'altro, veramente, adesso le cose sono cambiate moltissime, e il centro di dame è uguale, e quindi aiuta la vostra mente, diventa più pacifica, questo è quello che ho capito dai lama, sicuramente è verissimo, questo, poi ancora, Mahesha, vuoi richiedere direttamente? Mahesha, sei lì presente? Cerca di togliere il muto, fai tu la domanda, eccolo, delle volte la finestra là, dovrei diventare verde, parla così, io ti posso vedere, ecco, ecco, ciao, ho una domanda riguardo, riguardo, la reincarnazione, mi piace moltissimo la maesha, di più di la maose, e ho seguito, ho trovato la connessione, la connessione karmica con la maesha, la mente è la stessa, quella è la differenza fra, è un buon punto, Mahesh, perché vedete, noi abbiamo diverse connessioni, con diverse persone, con diversi momenti, e nel vostro punto è giusto, è esattamente la stessa cosa per me, perché alcune persone, sì, sicuramente, il vostro, il tuo cane in questa vita, il tuo cane in questa vita, potrebbe essere un topo nella vita precedente, è la stessa continuità della mente, però vedete, c'è una diversa relazione, c'è un vostro modo che questa persona si manifesta in modo diverso, e quindi magari quella persona non è adatta per la tua mente, dobbiamo avere la fede che è la stessa la mente, però è la stessa cosa per me, la Mahesh, la forma di Mahesh è quella che ha connesso a me, in quel momento, in quello stile, è completamente ragionevole, e tu sei una mente ecologica, e so veramente, hai confidenza nel lama, nel dharma, allora questa mente, si sta mostrando in un aspetto diverso, magari non è adatto per te, però non puoi vederlo come Buddha, però è ragionevole, e così ha un nuovo stile, ha un altro tipo di connessione, non essere confuso da quello, va benissimo questo, ok? Continua ad amare la Mahesh, quando penso al mio lama, parlo alla Mahesh nella presenza, e penso a lui che è come presente, perché è la persona, è la forma, che ha toccato, e che mi commuove, quello che mi ispira, e quindi, la mente della Mahesh, esiste ancora, o in un modo diverso, e lui può apparire nei nostri sogni? Certo, è sempre la mente della Mahesh, però appare come la Mahesh, perché quella forma funziona per te, quella è a causa del tuo caro, lo puoi vedere in quella forma, è la stessa mente, è la stessa mente, ma quella forma che parla a te, che è una connessione con te, ok? Grazie, grazie, tieni la Mahesh nel tuo cuore, e poi ancora con penne, can we, can we are you here? can we unmute yourself? can we have a question, can we have a question, can we have a question, can we? can we are you here? can we unmute yourself? puoi togliere il muto, altrimenti chiedo io la domanda, non è connesso in questo momento, allora leggo la domanda, ho letto un libro molto famoso del buddismo, molto profondo, uno dei migliori che abbiamo letto, poi ho letto, l'ho consigliato a un maestro, che è stato accusato di abiti sessuali, eccetera, non so come pensare di questi insegnamenti, riguardo a questo, se la persona è così, a fare queste cose, e poi, deve essere la reincarnazione di un grande, maestro realizzato, questo mi fa, lascia veramente, mi ha lasciato un pochettino di crisi, crisi nella mia fede, e come si può vedere questa cosa qua, capisco veramente molto bene questa cosa qua, non è un argomento facile, quindi cerchiamo di spiegarlo questo, non è facile assolutamente, soprattutto quando si parla di abusi sessuali, è veramente un argomento molto intenso, questo che posso dirvi della mia esperienza, con un particolare lama con Geshe Calzanghianzo, che è stato quello che ho menzionato prima, che questo è un fatto, questo non è una pionione, ha preso il centro di lama Geshe, e adesso è il centro principale, nel 96, staccato da Sossantità e Dama, è andato contro Sossantità e Dama, ed è adesso, la sua organizzazione si chiama Nuova Kadampa Tradition, New Kadampa Tradition, ed è quando ero all'istituto al Manjush, lui era in occidente, lui era uno dei miei insegnanti, ho preso l'iniziazione da lui, mi sono impegnata a lui, che lui è uno dei miei guri, ho fatto la decisione, che è lui di vedere lui come Buddha, ho preso questa decisione, ho analizzato i suoi insegnamenti, ho deciso che lui era uno dei miei guri, quindi ho preso l'iniziazione, quindi ora, se voi avete preso dell'iniziazione, particolarmente nel Manutara Yoga Tantra, il livello più alto degli insegnamenti, questo è veramente un insegnamento molto potente, è molto difficile anche, la chiave è che noi dobbiamo comprendere che cos'è Buddha, Buddha, Buddha è quella che si prende la persona dietro di me, che è il corpo di Buddha Shakyamuni, questo essere che ha vissuto 2500 anni fa, però l'affettiva parola Buddha si riferisce a tutta la compassione, la compassione inferiore che pervade, una coscienza pervasiva, che è completamente sviluppata, questo di tutti quanti è diventare questo, diventare un Buddha, quando noi saremo Buddha, potremmo aver rivolto tutte le afflizioni mentali, non abbiamo più corpo, non abbiamo più bisogno, abbiamo bisogno del corpo, è completamente saggezza, vede la saggezza, vede tutti quanti l'universo, vede l'infinita compassione, e ha questo potere di guidare tutti quanti gli esseri senzienti, questo è Buddha, il buddhismo dice che ogni singolo insegnamento maya, ognuno dice che ogni essere vivente ha questa potenzialità, quindi questo è veramente difficile, perché è troppo mistico per noi, però questa è la visione mayana, la visione mayana dal momento che fate il primo livello della pratica, avete eliminato tutte le afflizioni mentali, smettete di danneggiare, avete purificato tutta la mente, a questo punto potete ottenere la liberazione dalla sofferenza, non dovete più rinascere, avete eliminato le afflizioni mentali, eliminate le realizzate la vacuità, e quindi vuol dire che volete rinascere, perché volete beneficiare gli esseri senzienti, è diventato il buddhisattva, quindi anche a livello più basso, le buddhisattva possono manifestare cento corpi diversi, simultaneamente, per essere beneficiati, gli insegnamenti sono veramente, dobbiamo leggere questi insegnamenti, dobbiamo essere nomi, è come, sembra quasi fantascienza questa, però quando siete Buddha, avete la possibilità di manifestare in modi diversi, centinaia di modi diversi, gli esseri santi, anche i buddhisattva, hanno un'incredibile compassione, beneficiare gli esseri senzienti, che loro, siccome loro non hanno più, assolutamente nessun ego, non hanno più afflizioni mentali, quindi non è possibile creare karma negativo, e hanno un'incredibile chiara vigenza, e quindi loro fanno qualsiasi cosa, è di beneficio per gli esseri, anche fare delle cose negative, se non siamo, non abbiamo studiato gli insegnamenti del buddhisattva, questo non è possibile da comprendere, ecco perché, è un argomento molto difficile, quindi questa è la possibilità, questo è un'incredibile buddhisattva, fanno qualsiasi cosa, sia di beneficio, per beneficio agli esseri, quindi parlano anche, usare dei metodi pacifici, irati, qualsiasi metodo, ma con la visione a lungo termine, per agganciare gli esseri senzienti, per guidarci all'illuminazione, quando abbiamo questa incomprensione, quando, attraverso l'insegnamento, il buddha può manifestarsi in un corpo, e fare quello che sembra negativo, è veramente molto difficile per noi, dal punto di vista ordinario, per il mondo occidentale, è una cosa insana, e quindi è un concetto insano, quindi finché noi non studiamo questi insegnamenti, è molto difficile pensare, che questo possiamo, dobbiamo comprendere gli insegnamenti del buddha, questa è la possibilità, quindi anche con un esempio semplice, ti piace leggere nei libri, leggere nei libri, come Milarepe, questo incredibile yoga tibetano, che ha vissuto più di mili anni fa, il suo guru, il suo guru, Marpa era il suo guru, sì, e quindi Marpa, poteva vedere, era veramente, ha ucciso un sacco di persone, aveva bisogno di un sacco di purificanza, quindi l'ha trattato molto, molto male, quindi Marpa non ha abusato di lui, sessualmente, però ha abusato di lui, era veramente molto irato con lui, e quindi guardate la mia esperienza, la maiesce mi urlava, con me, vedete, lui non mi ha abusato sessualmente, però mi ha urlato dietro, questo si chiama abuso, e quindi, se una persona si tratta così, potete portarla al tribunale, quindi io avevo una grande fiducia, e la maiesce, quindi lui conosceva la mia mente, e aveva soltanto una grande compassione, lui ha fatto soltanto quello che era di maggior beneficio per la mia mente, questo lo possiamo comprendere, anche il mio maestro di Confu, non l'ho preso come un abuso, facevo, e realmente, immediatamente, quando noi pensavamo, abuso sessuale, ecco, adesso torniamo all'esempio di Kesh, Kelsanghiazzo, personalizzazione da lui, quindi ho deciso che lui, e ancora il mio auguro, e allora, quindi ho detto, io sono chiaroveggente, posso vedere la sua mente, no, non posso, può essere lui, ha vuto, che si manifesta in questo modo, mostrare che sta facendo qualcosa di negativo, che sta prendendo il centro di la maiesce, sta contro le sostanze, sembra una cosa completamente non sana, può essere vuto, certo che potrebbe essere vuto, allora, chi sono, io non sono qualificata per giudicare, quindi, non ho un impianto, lo lascio lì, e quindi, non sono contenta nel mio cuore, però, non l'ho mai criticato, non ho mai detto una cosa negativa, e non ho mai criticato i suoi discepoli, non ho mai criticato, che è scercato anche altro, è andato contro il mio, ha preso il suo cedetto, è andato contro la sua santità, e non conosco la mente degli altri, anche a livello di assordinare, anche, tu non sai chi sia, e quindi non bisogna criticare, questo è veramente molto difficile per la nostra mente, molto difficile per la nostra mente, quindi non sto dicendo chi è questa lama, posso immaginarci, sono molte lama che sono stati accusati, non so se l'ha fatto o l'ha non fatto, non dico questo, infatti sono fatti, ma noi non sappiamo chi sono le persone, quindi è incredibilmente veramente difficile, veramente molto difficile, tutto quello che io vi posso consigliare, è che con questo lama, non puoi sapere, non puoi sapere chi è, potrebbe essere Buddha, che si manifesta in un modo irato, che si manifesta in un modo negativo, però è difficile sapere chi è, chi non è, quindi, io veramente cerco di, voglio, se vuoi, puoi iscrivermi, e quindi possiamo parlare delle ore, per questo, di questo, anche solo, perché è veramente un punto molto potente, veramente molto importante, e io penso veramente che tu mi scriva, prendi il mio email, adresa, ne possiamo parlare più in dettaglio su questo, posso dire, ho detto questo che ho detto, non è una cosa, è un inserimento facile, e quindi è scioccante, particolarmente quando si parla di uomini, che abusano delle donne, particolarmente dove siamo nel mondo adesso, è una idea scioccante adesso, comunque, quindi magari, siete, magari qualcuno di voi anche, sconvolto da quello che dite, ma siamo abbastanza cresciuti, dobbiamo pensare a queste cose, la logica di questo, e questo è il punto, non abbiamo la saggezza, non possiamo vedere la mente di nessuno, e quindi, noi non sognacciamo che le persone ci accusano di cose, che non abbiamo fatto, veramente, siamo così offese, ma non possiamo vedere questo, questo è veramente molto, molto potente, dobbiamo immaginare il Buddha, che si manifesta, quindi, dobbiamo leggere le storie, riguardo al Buddha, come Milarepa, che era stato picchiato dal suo guru, ci piace leggere queste storie, però se il guru lo facesse con noi, avremo un attacco di panico, quindi dobbiamo veramente pensare alla logica di queste cose, non è facile, questa è la cosa migliore che posso dire, però se vuoi discutere, mi piace parlare con te, quindi, l'esperienza che ho avuto con me stesso, è quindi veramente molto difficile, non esistante, se volete dire qualcosa di più, è veramente un punto molto potente, e quindi, ok, non so che posso dire ancora, ho perso, adesso penso di aver aperto una, penso di avere aperto una lattina di vermi, in questo momento, ci sono delle altre domande? minuti, 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 puoi togliere, parlare direttamente, parla con me, parla con me, e Pilosar, buon anno, buon anno, è veramente fantastico vederti dopo quattro anni, dove sei tu? io sono tu usciti in Delhi, ah, bene, ho preso i miei voti da like da te, quindi abbiamo una connessione, sì, definitivamente abbiamo una buona connessione, si parla pure, io sono a un incrocio della mia vita, e ci sono delle cose che stanno succedendo nella mia vita, lui ha detto, il guru deve mostrare la tua mente, allora, voglio chiederti, io ho aperto questa scuola, abbiamo 1300 bambini, e adesso sono ad un certo punto dove, non so, devo aprire un'altra scuola, o devo dicarmi allo studio del Dharma, fare i tiri, perché anche, trovo che io sono molto spinta a studiare i miei studi, e anche c'è anche l'opportunità di aprire un'altra scuola, capisco, allora, ti voglio fare una domanda, se a te, noi tutti quanti noi parliamo della morte, l'impermanenza, però se vi dicessero, se vi dicessero, hai un anno da vivere, che cosa faresti, che cosa sceglieresti, e cosa sceglieresti? Studiare, sì, immediatamente mi viene, io farei, ritirei e studierei, ecco, questo è un modo, questo è un modo di metterlo, di portarlo alla superficie, l'altra cosa è questa, e naturalmente con il tuo lavoro, che hai successo, e hai questa opportunità di aprire un'altra, puoi aprire un'altra ancora, e può essere incredibilmente di grande successo, per una cosa meravigliosa, però, sembra però, che a questo punto, non hai più vent'anni, non hai più vent'anni, no, sono cinquanta, ecco, allora, questo vuol dire che sei vicino, più alla morte che alla nascita, e quindi, il fatto che questa è una ragione ancora nella tua mente, che sei a un punto, cruciale della tua vita, un altro approccio a questo, che hai chiesto prima, la cosa più importante, è quello di avere fiducia, su Santità e Dai, dice sempre, sempre, aspira, e cerca di voler fare le cose, che è di maggior beneficio, e se noi possiamo, pensiamo al beneficio a lungo termine, che è quello a breve termine, quindi, la cosa, uso questo come analogia, quando stai lavorando, camminando su una strada, esattamente come te, tu sei, il fatto, non sei arrivato proprio all'incrocio della tua vita, è come tu stai camminando su una strada, e sembra quasi che sei arrivato a un incrocio, sembra quasi che sia, devi girare, però non sai ancora quale tipo di direzione prendere, quindi, pensa, cosa potresti fare, questa strada è la tua vita, tu hai creato questa parola, a causa del tuo karma passato, tutto quello che stai facendo, nella tua vita l'hai creato, è il tuo karma, è la tua apparenza karmica, tutto quello che vuoi dire, e quindi, invece di preoccuparti, o cerca del potente da fare, è che ti svegli la mattina, e oggi, io sono in questa strada, pensare con la tua famiglia, con il tuo marito, il lavoro, con le stesse cose, c'è davanti a voi farlo, però con la tua pratica, la mattina, durante il giorno, dovete dire, possa io fare, cos'è, la cosa di maggior beneficio, non è soltanto per il grande, anche se posso andare a vedere un film, o guardare, mangiare, questo, cosa vuol dire, è bodicite, pensare, possa io, possa fare la cosa che è di maggior beneficio, la persona che mi invita a cena, pensate, faccio la cosa che è di maggior beneficio, quindi, quello ti porterà a guidare, a prendere la giusta decisione, quella sarà la miglior decisione, e quella, a lungo termine, qualsiasi decisione sia, che ti possa dare la possibilità di ottenere, diventare Buddha, il più velocemente, questo non vuol dire, che non devi fare un'altra scuola, non vuol dire questo, quindi, non speculare su questo, quindi, pensa, ogni giorno, possa io fare, quello che è di maggior beneficio, possa io riconoscere, l'incrocio quando arriverà, la mazzofra dice, ogni cosa esiste, sulla punta del desiderio, del pensiero, quindi, io possa fare, quello che è di maggior beneficio, quello nutrirà, il seme camico, che hai già piantato nel passato, che sarà quello, che quando tu svegli una mattina, dici, ah, ok, questo è quello che io devo fare, molto facilmente, non puoi tornare indietro, non puoi stare fermo, non puoi scegliere di andare, e nella direzione, che sembra più carina, che perché, seguire l'attaccamento, dovete pensare, esattamente più, questa è una cosa, dovete, tu praticamente, asfalti la strada, non guardare, il futuro, il futuro, è vedere dove c'è l'incrocio, no, adesso devi fare, esattamente, quello che è del maggior beneficio, quindi, in questo modo, l'aspirazione interna, ti guida, e causa, che tu possa prendere, la giusta decisione, quando è un momento giusto, cosa pensi? Sì, sì, grazie, grazie, penso che sia giusto, e tu farai la giusta decisione, perché sarà la cosa giusta da fare, e avrai fiducia in questo, con l'aspirazione, è veramente incredibile, quello che hai detto, la sua santità, è veramente, possa io, aspirare a quello, a fare quello, che è del maggior beneficio, per il maggior numero di persone, così, andrai completamente, all'illuminazione, e, di sicuro, non voglio, avere che sia l'attaccamento, questo non vuol dire che, questo non vuol dire, che non sarà la scuola, non vuol dire che sarà la scuola, tu devi essere pronta, a fare qualsiasi cosa, sia giusta, anche se è la cosa più difficile, se hai quella spiegazione, tutti i giorni, prenderai la giusta decisione, quando al momento arriverà, ok, grazie tantissima, per favore, torna in India, sì, voglio venire, appena ci permettono di venire, io vengo, ok, grazie, grazie, grazie tantissimo, per questo consiglio, che è stato fantastico, Ashish, sei lì? Puoi? sei lì o no? Ashish è lì o no? altrimenti chiedo, faccio io la sua domanda, è sempre in connessione con, devo essere al guru, grazie, grazie per l'importanza, di scegliere il guru, però per favore, guidare, cosa possiamo avere avvenuto, effettivamente, come si fa per trovare un guru? Io penso, la causa principale sono interiori, la causa principale sono interiori, veramente, e questo vuol dire, che ogni giorno, aspirare e volere, possa io incontrare il mio insegnante, possa io incontrare il mio sentiero, possa io diventare, possa avere, creare chiaramente, capire chiaramente, dove io appartengo, possa io incontrare il mio lama, possa io riconoscere il mio maestro, questo pensiero, nutrono il seme, calmico, che sarà quello che maturerà, davanti a te, e tu incontrerai il tuo guru, e anche puoi andare in giro per il mondo, cercavo, un amico era diventato molto devota per il Dharma, e voleva incontrare il guru, e letteralmente, lei, veramente è andata intorno al mondo, questo lama, quel lama, quel lama, quel lama, anche volendo il lama, interalmente, però, finalmente ha incontrato, dove sei stata, e quando il lama, gli ha detto, io stavo aspettando, dove sei stata, una persona, per favore, puoi essere il mio lama, no, io non sono il lama, devi andare da quel lama, e quindi, interamente, è la causa principale, di voler aspirare ogni giorno, praticare tutti i giorni, quando fate la vostra pratica ogni giorno, visualizzate il guru, visualizzate il reso, il buddha, qualsiasi pratica, voi fate, e voi pensate che è il vostro lama, che si manifesta, è lì che ti sta aspettando, e voi dovete aspirare, lui e lui, e voi dovete creare le cause interiormente, praticando, facendo la purificazione, questa è la casa principale, è così, è così, all'improvviso lo incontrerete, interiormente è la casa principale, interiormente sono le cose principali, ok, ok, buongiorno, 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 interessanti, insegnamenti, ci sono gli insegnanti che hanno diversi stili diversi, alcune volte appaiono veramente duri, e ci danno delle risposte molto pesanti, però adesso delle volte è molto difficile, comprende esattamente quando è una parola dura, e quindi la mia domanda è, come possiamo noi riconoscere, che la vostra parola è dura, perché io penso che in molte culture, per esempio, c'è veramente molte cose che bisogna dire, perché altrimenti possono essere percepiti, che dà fastidio ai sentimenti delle persone, nel modo come tu insegni veramente di grande valore, però è veramente molto diretto, e non so bene come fare questa distinzione, quali insegnamenti, di chi? Sto cercando di parlare ancora, quanto hai i tuoi insegnamenti? Ah, com'è? Io sono veramente dura, sono molto arrogante, è vero, è vero, però la cosa è che lo so che devo stare molto attenta, perché le persone sono veramente disturbate, questo ho avuto, molte persone si sono lamentate, perché sono stata veramente, abusavo le persone, anche quando io devo stare veramente molto attenta, perché non posso garantire, anche se parlo in modo sofficio, non posso garantire che le persone mi amino, e quindi devo praticare ogni giorno, di essere veramente sincera, e anche come naturale, e non so se stavano avanti persone, amano l'essere che io sia molto diretta, però ci sono delle persone, una persona, quando parlavo del karma, e infatti stavo parlando dell'abuso sessuale, una persona è completamente, stavo dicendo che loro erano, se le persone sono sensibili, però non bisogna parlare in un modo, per una persona, la Masoparimpo, c'è un essere santo, lui ha accesso a tutte quante le persone, non puoi garantire che, personalmente, io proprio cercare di fare, mi scuso veramente, se le persone sono, si sentono male, con i miei insegnamenti, la mia natura, però non voglio assolutamente danneggiare gli altri, e quindi veramente, e quindi se giudichi qualcun altro, è molto difficile, è molto difficile, quindi ecco perché parlo adesso, è molto difficile per noi, giudicare chiunque, e quindi se tu rispondi a una persona, che parla direttamente, è sufficiente, potrebbe essere, è molto duro, è molto difficile, anche questo è veramente, dimentichiamoci degli insegnanti, che è sempre, dal nostro punto di vista, la nostra pratica, deve essere quella, di non urtare la mente degli altri, e probabilmente, dobbiamo guardare la nostra mente, dobbiamo guardare sempre, delle persone che ci urtano, delle persone che ci, sono cattivi con noi, questa è la vita, quindi la nostra pratica, non è quella di giudicare, se loro sono molto duri, la nostra pratica, è quella di lavorare sulla nostra mente, quindi non sto parlando come insegnante, parliamo fra di noi, questa è la vera pratica del Dhamma, quello che noi non sappiamo, noi ci svegliamo una mattina, ci sentiamo particolarmente sensibili, la persona che è nel, nel negozio, ed era veramente, molto rude con noi, mentre ci erano assolutamente, dipende dallo scenario, quindi dal nostro punto di vista, come praticanti, assolutamente, dobbiamo guardare la nostra mente, ed essere, guardare la nostra pratica seriamente, e non permettere, puoi essere molto diretti, nello stesso tempo, cosa vuoi dire con questo, possiamo essere noi diretti, in quel caso, per esempio, permettere a noi stessi, di essere più diretti, o dobbiamo sempre pensare, con le persone, come percepiscono, ci sono due cose lì, ecco perché dobbiamo comprendere bene, il processo degli insegnamenti, l'ambre, è veramente un modo graduale, di lavorare, è il primo livello di pratica, che cambia il livello, lo chiamo, la scuola elementare, di lavorare con la nostra mente, controllare il nostro corpo, parola, quindi noi controlliamo il corpo, la parola, non danneggiare gli altri, non uccidere, non mentire, e così via, questo è il primo livello di pratica, e quindi è controllare, la parola negativa, perché la parola negativa, viene dall'afflizione mentale, se noi veniamo da un punto, diretto di virtù, magari può sembrare, molto forte, però, quella saggezza, la saggezza, che si impara, a controllare, le proprie parole, e mente, questa è la cosa principale, e quindi dovete smettere, di danneggiare gli altri, e quindi quando noi, quando proghiediamo, cominciamo nell'ala della compassione, vogliamo beneficiare gli altri, quindi quello che noi possiamo fare, è aggiustare noi stessi, e quindi se voi pensate, che siete tre anni, dovete fare quello che, dovete fare quello che, se siete una persona, dovete aggiustare voi stessi, questa è la saggezza, questa è la compassione, è aggiustare il proprio comportamento, della persona che è davanti a voi, per alcune persone, potete urlare, e gridare, per altre persone, bisogna essere molto gentili, quindi bisogna avere, un buon senso, quindi questo comincia, ad avere la compassione, quindi aggiustare se stessi, e quindi siamo così, soprafatti da, quello che noi do, allora possiamo dire, tutto quello che ci pare, no, la saggezza controlla, il nostro corpo parola, e quindi avere chiara chiesa, e quindi aggiustare noi stessi, per gli altri, questa è la compassione, questa è veramente compassione, per se stessi, e per gli altri, e quindi non so, che non dico quello che io posso, la vera compassione, è che aggiustate voi stessi, per quelle persone, che sono davanti, questo è veramente importante, quindi questo si chiama compassione, questo è anche saggezza, questo è ciò che funziona, per quella persona, comprendi? Sì, 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 grazie, grazie tantissimo, grazie. Narian, vedo il tuo nome, puoi togliere il mutuo, da te stessa, e quindi fare la tua domanda, direttamente, buongiorno venerabile, buongiorno happy loser, noi ci siamo incontrati, in ottobre, a tua uscita, la mia domanda è, riguarda come, puoi cambiare la tua relazione, con i tuoi fratelli, tu hai detto, che la tua esperienza, che avevi molta gelosia, come i figli, e quindi, quello che dovete, competere uno con gli altri, noi avevamo veramente, veramente, ci amiamo moltissimo, ci amiamo tantissimo, però avevamo tutte queste, extra cose, quindi, parliamo male degli altri, ci criticavamo, e così via, eravamo molto cattivi, uno con gli altri, anche se ci amiavamo, questo è quello che ci ha sostenuto, però, quando siamo diventati più vecchi, è proprio, proprio stupido per la mia pratica, è nata mia sorella, che è veramente, ha fatto uno sforzo, e quindi, una tantissima virtù, siamo tutte quante molto virtuose, siamo tutte quante, abbiamo tutte quante una buona virtù, e quindi, abbiamo cercato di fare uno sforzo, perché abbiamo sforzo di non dire delle cose cattive, uno per l'altro, e quindi, piano piano, abbiamo influenzato gli altri, e questo non vuol dire che, certe volte ci criticavamo, quindi non possiamo smettere di dire, e quindi abbiamo cercato, il più possibile ci siamo capiti dagli altri, e quindi cominciare, tutti quanti noi abbiamo delle buone, è molto difficile, sarebbe veramente utile, bisogna cominciare voi stessi, voi stessi non potete aspettare, che gli altri lo facciano, voi dovete decidere, di non dire delle cose negative, per gli altri, voi dovete decidere di non litigare, voi dovete decidere di essere genuini, e quindi, e siate così, un esempio, ecco come funziona, quindi, perché noi siamo delle buone persone, ce la prendiamo, quindi, i vostri fratelli israeli, non ti aspettare, che sia reciproco questa cosa qua, magari, non succede, però tu devi mostrare la strada, non devi essere poliana, devi essere uno sforzo, di non criticare alle spalle, e non dire mai niente, di dire cose negative, non dire niente, e non litigare, non parlare mai di cose, di cui non siete d'accordo, queste sono veramente cose, molto importanti, comincio, magari sarai sorpreso, di quello che succede, ok, e quindi, insomma, è una cosa molto semplice, però ho visto nella mia famiglia, è veramente una cosa straordinaria, è veramente una cosa straordinaria, e quindi sono delle persone, delle bravi persone, però magari, che criticano, parlano e litigano, riguardo alle cose politiche, però cerchiamo, quando siamo insieme, noi non litighiamo, e non parliamo, di cose negative, l'uno con l'altro, o alle spalle, e quindi siamo veramente, veramente, ci, l'odiamo uno con l'altro, quindi, è veramente molto genuina, questa cosa qua, è veramente una cosa affascinante, grazie tantissimo, devi cercare di essere, tu l'esempio, cercherò di fare l'esempio, cerca di fare, coscienziosamente, di lodare, non cercare, coscienziosamente, cercate di lodarvi, cerca di lodare gli altri, e essere, grato degli altri, ok, prova a cominciare, vedrai che, sarai sorpreso del risultato, c'è una domanda da Nnedi, parla con me, parla con me, grazie per parlare di queste cose, e cosa è buono, per le cose di beneficio per noi, e la mia domanda, è riguardo, voglio cercare di diventare una persona migliore, però non mi sento una brava persona, devo lavorare molto, quindi, delle volte mi sembra di scappare, e ho delle volte nel presente, per quale motivo, vuoi essere una persona migliore, e scappare, cosa vuol dire, non capisco bene, cosa vuol dire, perché, io non penso, alle persone che posso fare, o, e come posso contribuire, e contribuire nel mondo, cosa contribuire alla mia vita, o così, quando dici, voglio diventare una persona migliore, cosa vuol dire adesso, fammi, le qualità che tu vorresti coltivare, che pensi di non avere adesso, dovrei avere più coraggio, più compassione, capisco, capisco, adesso, non so dire, tu non dovresti, stai praticando il buddismo, ti piace il buddismo, cos'è la storia per te, cos'è per te, ho una pratica quotidiana, quindi, allora, allora, il modo che mi piace questa analisi, tecnologia di tutto il sentiero per l'illuminazione, puoi parlare, come dice, come un uccello, ha bisogno di due ali, come la saggezza, la compassione, l'ala della compassione, è il punto, il grande buddismo è stato completamente, stati al di là dell'ego, per essere di beneficio per gli altri, in qualsiasi modo sia possibile, e desiderano essere di beneficio per gli altri, che sia essere una madre, essere monaco, qualsiasi cosa possesse essere, cercano di sopravvivere, la compassione non è sufficiente, come dice, sostanzialmente, abbiamo bisogno della saggezza, non è una grande, l'ala della saggezza, è quello di lavorare su se stessi, avere una pratica quotidiana, controllare il corpo, vivere nei voti, fare la purificazione, lavorare su una propria mente, vedere, le proprie limiti, e crescere in voi stessi, questo è l'aspetto della saggezza, questa è la parte del lavoro, che tu devi fare, e che ti farà diventare, una persona più saggia, più fiduciosa, che almeno, meno afflizioni mentali, sulla base di questo, sarai in grado di vedere gli altri, più chiaramente, e potrai essere ancora più meravigliosa, ed essere di beneficio per gli altri, abbiamo bisogno di due leali, abbiamo bisogno di praticare, se più lavori nella tua mente, e più avrai meno paura, avrai meno attaccamento, sarai meno arrabbiata, sarai meno gelosa, sarai più gentile con gli altri, devi usare tutti e due, quindi il sentiero interiore, è quello della saggezza, quindi rendere, far sé che tu diventi una persona meravigliosa, esattamente questo è il lavoro che devi fare, sembra veramente una cosa punitiva, di abbandonare l'attaccamento, devi mollare la repressione, mollare la rabbia, la pratica è per poter diventare più gentile, più coscienzioso, più coraggioso, più diretto, più chiaro, questa è la potenzialità che tutti quanti noi abbiamo, questa è una cosa meravigliosa, è chiaro, è abbastanza chiaro, comunque in modo che tu lo sperimenti, lo esprimi, puoi essere un architetto, puoi essere una madre, puoi essere un multimilionario, usi le tue abilità, per essere di beneficio per il mondo, basando tu, diventi una persona più coraggiosa, e migliore, lavora, camminare sul sentiero del bodhisattano, ci sono limiti, usi le tue abilità, ti aiutano così, a diventare migliore, e quindi così puoi aiutare anche gli altri, ok, vedete questo, ha senso questa cosa per te? Bene, bene, continua a muoverti così, continua a muoverti, continuate ancora, e penso che sia, devo finire adesso, penso, questo è un altro momento, lo lasciamo per domani, è per un anonimo, non so se questa persona, allora aspettiamo fino a un altro giorno, ok, ok, la devozione al cuore, penso veramente, volete scrivere, sento che veramente sei sincera, e quindi, sono molto contenta se mi scrivete, è veramente una cosa molto importante, possiamo farlo privatamente, è veramente una cosa molto, è un argomento così difficile, è veramente molto triste, quello che succede, veramente, grazie tantissimo a tutti e quali, sono stati, solo che sia stato di beneficio, quello che abbiamo parlato, questa ora e mezza, è stato come un sogno, e noi non abbiamo fatto la motivazione all'inizio, noi pensiamo, e tutti questi pensieri che abbiamo avuto, in questi 90 minuti, ogni pensiero, ognuno di noi, che abbiamo messo un seme nella nostra mente, e cerchiamo di nutrire questi semi, tutte quante la nostra virtù, la nostra pratica, ogni secondo, e possiamo così sviluppare le nostre qualità meravigliose, ed essere di beneficio per gli altri, e quindi sviluppare queste due ali del cielo. Grazie tantissimo, grazie a tutti quanti, grazie tantissimo, possiamo fare un annuncio adesso? Oggi è il compleanno anche di La Maose, e c'è il premier sul YouTube canale italiano anche. Ciao a tutti quanti, grazie preziosi a tutti quanti, ci vediamo domani, ciao ciao, buonanotte, ciao ciao. And for everybody, have a lovely day, have a lovely Tibetan New Year day, and rejoice, enjoy, see you tomorrow at 10 a.m. Indian time again, yeah, thank you so much everybody. see you tomorrow, thank you, happy lobster to all, thank you, happy lobster, thank you very much, thank you, you're most welcome, my pleasure, our pleasure, good morning, good afternoon, happy lobster, to Mongolia, happy lobster, yeah, thank you so much, it's great to see you, others, and especially Venagorabina, I'll try to be on time tomorrow, yeah, a little difficult, but great, thank you, lovely having you in Lindy, Venagor Lindy, thank you, bye, have a good day, Papa dear, bye, hi Minotti, brave lady,